L'eco della vittoria in Abruzzo carica il centrodestra molisano che serra le file e avvia le consultazioni finalizzate alla scelta dei candidati sindaci per le elezioni di primavera. Le partite più importanti si giocano a Campobasso e Termoli e l'obiettivo è riconquistare lo scranno più alto e la maggioranza scalzando il centrosinistra uscente. E allora Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia, Orgoglio Molise, Udc e Popolari hanno aperto ufficialmente il tavolo con un primo incontro che si è svolto a Campobasso. L'ordine del giorno era proprio relativo ai prossimi appuntamenti elettorali e ora si vogliono evitare innanzitutto fughe in avanti e invastire una trattativa in cui, come ha detto espressamente Donato Toma, vorrà a lui l'ultima parola. Non a caso il governatore del Molise era presente a Summit in cui innanzitutto sono stati chiariti due aspetti fondamentali, no alle imposizioni dall'alto e no alle primarie. È un sistema ormai riconosciuto da tutti come non affidabile e facilmente manipolabile, spiegano i partiti in una nota inviata a margine dell'incontro, mettendo così da parte l'ipotesi avanzata nei giorni scorsi da Ida Romagnuolo. La dissidente della maggioranza, capogruppo della Lega in Consiglio, aveva espressamente invitato gli alleati a dare la parola ai cittadini per evitare litigi. L'appello è caduto nel vuoto nel corso di un appuntamento in cui, tra l'altro, è stato chiarito che per la scelta dei candidati sindaci di Campobasso e Termoli avranno voce in capitolo anche assessori e consiglieri regionali, oltre ai referenti locali dei partiti. Il metodo su cui i presenti hanno mostrato piena convergenza è questo. Saranno innanzitutto individuati i delegati nei vari comuni che andranno al voto. Apriranno a livello locale quindi un confronto per raccogliere le esigenze della base e ragionare sui programmi e su una prima rosa di nomi. Nel frattempo, il tavolo regionale incontrerà gli amministratori uscenti di Termoli e Campobasso per avviare contemporaneamente un dialogo. Per quanto concerne invece i comuni più piccoli, laddove ci siano le condizioni, si legge ancora nella nota del centrodestra, le tre forze a carattere nazionale della coalizione saranno pronte a sostenere apertamente, anche tramite un simbolo, che raccolga i tre loghi di partito, liste e candidati. È importante lavorare attraverso criteri di scelta trasparenti, credibili, inclusivi e democratici, ma che allo stesso tempo definiscano in maniera chiara e netta l'area del centrodestra e la sua offerta politica. Piena unità di intenti è stata registrata poi sul metodo da adottare in vista delle elezioni in programma alla provincia di Sernia il 24 marzo. Il tavolo è stato aggiornato alla prossima settimana.